Ciao E qui si chiama Angelo07Golo Che propone questo video e voi E entro sul mio canale E a volte ci faccio il video Ok E che brunner metto? Rescia rosa Eh ma dopo ti vengono Io adesso che gioco con rosa Mi vengono gente con 10.000 foto E quindi è meglio che E metto tipo Un po' Va bene un po' Nice Guarda Angelo Non iscrivervi perchè Dobbiamo fare il video Lo sto aiutando con il canale Volevo aiutare anche Edoardo Vai che Non c'è adesso Ehi Comunque Edoardo Si è molto bravo di anni Quindi Ma com'è che sono morti? Non lo so Vado stanchi qua c'è una cazzo Meglio Mi ha cercato Molto Si è morti Mi vengono Sto prendendo il power up? No, porco cane! Meno di no! Gli spacco la schiega a questi qua! Oh no! Oh no! Oh no! Va bene dai! Almeno non abbiamo perso coppia! Oddio che roba! Che roba ragazzi! Porta fortuna drink! Eh si! E sapete che cambio la foto che magari porta fortuna! Cioè pure abbinata alle 6.000 cup! 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 Ragazzi sto video non sarà molto lungo! Perchè appunto devo fare il video con Angelo! E vabbè! Si sente troppo male! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! Perfetto! Grazie a tutti dai 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 sono nobi sono nobi qui nooo sono nobi porco cane però non ho 3 adesso pure faccio per 4 che bello cambio brunner allora metto colto che c'è l'otto ok 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 oh ok 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 video o nel caso vediamo che va male stiamo a tamperare un'altra tanto sì no mi sa che sei in una tasca siamo chiusi a tutti e vabbè si buonasera si vabbè ce l'ho chiuso e vabbè concludiamo con un drop ragazzi bellissimo e niente un video molto corto perché devo andare a registrare con Angelo che come vedete mi sta passando di me i messaggi e niente speriamo che il video vi sia piaciuto seguiteci su Instagram se mi ricordo metto il link di Instagram di Caponna andate a seguire e niente bello